Buongiorno a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi facciamo un bel book haul, quindi vi mostro gli ultimi libri che sono entrati a far parte della mia libreria. Del resto agosto è agli sgoccioli, settembre sta per cominciare, la scuola sta per cominciare e quindi in qualche modo mi dovevo consolare. Non ho fatto acquisti sconsiderati, mi sono tolta giusto qualche sfizietto per darmi la carica e affrontare il mese di settembre con la giusta energia, con la giusta grinta. Se anche voi amate i libri, la letteratura e vi piace leggere, siete nel posto giusto, quindi se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. E se vi va di seguirmi anche altrove qui sotto trovate i link ai miei social, Instagram, TikTok, Goodreads. Ma veniamo a noi e soprattutto ai miei ultimi acquisti. Allora, innanzitutto ho deciso di recuperare anche la copia cartacea di Carmilla di Le Fanu. Se vi ricordate questo io me l'ero scaricato in formato digitale sul Kindle per leggerlo in vacanza. Effettivamente così ho fatto, l'ho preso in prestito dalla biblioteca in formato digitale, ma poi ho deciso di comprare anche la copia cartacea. Non mi fa molto impazzire la copertina, secondo me poteva essere un po' più fine, però diciamo che tutto sommato rende l'idea. Questo tra l'altro devo avervelo già mostrato durante l'ultimo wrap up perché quando l'ho girato credo che questo libro fosse già arrivato. Alla fine poi ho anche recuperato oliva denaro di violardone. L'ho trovato usato, quindi l'ho pagato davvero poco e ho deciso di comprarlo perché? Perché se effettivamente deciderò di proporlo alle mie classi e di lavorarci su, dovrò andare a rileggere alcune parti, dovrò andare a riprendere alcune parti e in questo caso preferisco avere sotto mano il cartaceo e lavorare sul cartaceo. E a questo punto, già che c'ero, ho anche acquistato, sempre di violardone, il treno dei bambini, che è il suo romanzo più famoso, se non sbaglio, questo è stato pubblicato prima rispetto a oliva denaro. E avevo detto che volevo recuperarlo, quindi quando ho trovato usato oliva denaro, alla fine poi ho comprato direttamente anche questo. Altro libro che avevo già letto in digitale ma che ho recuperato in cartaceo è Mia sorella una serial killer, ma non ce l'ho qui adesso, se non sbaglio anche in questo caso, quando ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up vi ho già mostrato la copia. Non ce l'ho qui perché l'ho prestata a mia sorella che cercava una lettura frizzante, avvincente, e ho pensato di appunto consigliargli quel titolo. Quindi ho recuperato anche quello, ce l'ho in formato cartaceo, ma non ve lo posso mostrare perché è in prestito. Poi altro recupero all'usato, ho acquistato Il nome della rosa di Umberto Eco. Allora, non mi convinceva granché la copertina che l'immagine è presa dalla serie tv che è uscita qualche anno fa. Già io odio le copertine che riprendono le scene dei film. Per giunta questa serie tv io l'ho interrotta alla seconda puntata perché non mi piaceva per niente, però questo libro è praticamente nuovo, non è stato mai sfogliato. Il prezzo era molto vantaggioso, quindi alla fine soppesando le due cose ho deciso di acquistarlo perché io Il nome della rosa l'ho letto, anzi l'ho letto anche due volte perché me l'hanno assegnato due volte. Mi è stata assegnata due volte la lettura del nome della rosa nella mia carriera scolastica, quindi l'ho già letto e riletto, però non ne avevo la copia cartacea in libreria. In libreria di Umberto Eco io avevo solo Baudolino e Il cimitero di Praga e volevo la mia copia del nome della rosa. L'ho trovata, usata e ho deciso di comprarla nonostante la copertina non mi sconfì in ferì tanto, però almeno ce l'ho e ho risparmiato anche un po' di soldini. Gente nel tempo mi ispira un sacco, quindi di Bontempelli devo assolutamente recuperare perlomeno gli iscritti più importanti. Poi sempre a proposito di 900 italiano, ho deciso di acquistarmi anche la copia cartacea di Una storia semplice, anche questo letto in digitale durante le vacanze e l'ho recuperato anche in formato cartaceo e alla fine ho deciso di prendere anche sempre di Shasha La scomparsa di Majorana. Quindi come vedete qui i libri viaggiano in coppia, Oliva Denaro con il treno dei bambini, Il figlio di due madri e Gente nel tempo e qui Una storia semplice e La scomparsa di Majorana. Comunque anche di Shasha pian piano mi sto recuperando tutto. Poi ho acquistato anche La casa della moschea di Kader Abdullah. Questo titolo mi è stato consigliato, ho deciso di seguire il consiglio e dovrebbe essere La storia di una famiglia persiana nella seconda metà del Novecento e La storia di questa famiglia si intreccia alla storia dell'Iran. Argomento che mi interessa molto soprattutto dopo la lettura dell'Illuminazione del Susino Selvatico che è un romanzo che ho letto qualche tempo fa e alla fine dell'anno scorso se non sbaglio e che aveva acceso l'interesse per la storia di questo paese, per la storia dell'Iran. Quindi appunto questo titolo mi è stato consigliato e ho deciso di recuperarlo e poi ahimè mi sono messa a sfogliare il catalogo Iperborea e ho fatto danno. Ho fatto danno perché è da un sacco di tempo che io sento parlare benissimo di questo romanzo La via del bosco di Longlite Woon, spero di averlo pronunciato giusto. Tutti ne parlano davvero benissimo e definiscono questo libro quasi terapeutico perché appunto racconta di una donna che per superare un grave lutto recupera diciamo la serenità, l'equilibrio attraverso il contatto con la natura stando tra i boschi. Una storia di lutto, funghi e rinascita. Niente, ne ho sempre sentito parlare benissimo, l'ho visto e l'ho comprato. Mi ero sempre detta lo voglio leggere, lo voglio leggere e poi è proprio bello, è proprio bellino questo libro. Adesso non voglio rompere subito la costa, però non vedo l'ora di leggerlo. E poi, e poi vi dico fatto danno perché sono incappata anche in questo qui, l'uccello nero di Gunnar Gunnarsson. Io di letteratura nordica ho letto molto poco e quindi la trama di questo mi intrigava, ho deciso di comprarlo. Dovrebbe essere una sorta di giallo. È ambientato in Islanda, in un piccolo villaggio dove ci sono due coppie che vivono in una fattoria sperduta, ad un certo punto una donna scompare, poi viene ritrovata morta, il cappellano del paese deve indagare per capire cosa è successo. Insomma, mi intrigava un sacco e l'ho comprato. Questi due forse sono stati gli acquisti un po' più sconsiderati, un po' più sconclusionati. Però, come vi dicevo prima, ogni tanto qualche sfizio per sopravvivere ce lo dobbiamo togliere. Poi, ultimi due titoli, Eric Gobetti e allora le foibe. Questo è un saggio, un saggio che parla appunto delle foibe. Ho deciso di acquistarlo perché su questo argomento non mi sentivo affatto preparata. C'ero consapevole di non averlo studiato bene e avevo ragione. Avevo ragione e questa collana di La Terza, Fact Checking, la storia alla prova dei fatti. E questa collana di La Terza, Fact Checking, la storia alla prova dei fatti, si occupa proprio di approfondire e di descrivere in maniera quanto più oggettiva possibile, dati alla mano, eventi storici o comunque fenomeni dal carattere controverso e che sono spesso stati interpretati in maniera faziosa o comunque sbagliata. E in questo caso appunto si parla delle foibe. L'ho già letto, quindi ve ne parlerò presto nella rubrica dedicata alla saggistica. E in generale questa è una collana che voglio tenere d'occhio perché ho visto già dei titoli che potrebbero interessare. Però appunto sono tutti libri che mi sembrano abbastanza brevi. Poi perlomeno questo è scritto in maniera davvero molto semplice. Sì da poco per scontato sono pensati per un pubblico ampio. Quindi terrò sicuramente d'occhio la collana e acquisterò sicuramente anche qualche altro titolo. E poi, dulcis in fundo, le città invisibili di Calvino. Allora, come sapete io con Calvino ho un rapporto un po' difficile. In gioventù mi hanno propinato un sacco dei suoi romanzi. Non ne avevo mai finito uno, proprio un autore con cui non sono mai andata d'accordo. Ultimamente sto cercando di ricucire lo strap e quindi di recuperare pian piano, a piccole dosi, le sue opere. Perché comunque mi rendo conto che è un autore del novecento italiano abbastanza imprescindibile. L'ultimo titolo che ho letto è stato Il sentiero dei nidi di Ragno, che ho recuperato l'anno scorso. Forse ancora due anni fa, non mi ricordo. Però comunque recentemente e devo dire che mi è piaciuto. E tutti, quando io dico che Calvino non mi piace, tutti mi dicono Ma no, è impossibile, devi leggere le città invisibili, devi leggere le città invisibili. In effetti questo è uno dei suoi titoli più importanti, più famosi. Molti colleghi sono innamorati di questo titolo, lo assegnano praticamente a tutte le classi. Io non l'ho mai letto. Chissà se sarà in grado di folgorarmi. Lo scopriremo. Bene ragazzi, dunque come vedete, a parte i due acquisti per Borea, sono stati tutti acquisti abbastanza oculati e sensati. Nel senso che sono rimasta nel solco di quanto sto leggendo negli ultimi mesi. Quindi anziché spaziare alla ricerca di cose nuove, sto cercando di approfondire gli autori che appunto sto leggendo ultimamente. Quindi a parte appunto i due libri per Borea che sono un po' di sopra delle righe, gli altri acquisti tutto sommato sono anche abbastanza sensati. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Mi raccomando, se siete arrivati fino alla fine lasciate un pollice in su e se vi va lasciate un commento, magari raccontatemi che cosa ne pensate dei libri che ho acquistato, se voi li avete già letti. O se vi va condividete i vostri ultimi acquisti. Mando a tutti come sempre un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!